Uh, varà che città, Bistard, città natale! Anche lui ha cittato! Cioè ragazzi, benvenuti in queste gare malate, quello lì è già spawnato all'incontrario Gare malate sulla neve, non potevo assolutamente farmelo scappare ragazzi E quindi guardate un po', iniziamo già bene tutti su un container a caso Oh, via! Questo è buono, al primo colpo, no, un po' troppo forse No, perfetto! Ahia, sono morto! Vai, eccoci di nuovo qua, gare malate sulla neve Ditemi se vi piace questo format ragazzi, perché è spettacolo! Mi sono ucciso sull'insegna, ma è possibile? Ho preso il checkpoint e mi sono schiantato sull'insegna? Qua dovevo assolutamente cambiarci le gomme! Vai, è stupendo, stupendo la neve, perché non la continuano a mettere? Perché la Rockstar non mi dà retta? Come sono morto? Ma sono morto all'indietro qua! Ma dai! Va tutto bene, ho preso il checkpoint, è quello l'importante! Vai! Avanti! Guardate, il DualShock si sta scaricando! Vai! Non stressarmi! No, no, no! Vai, riproviamoci! Eccomi! Lì cos'è successo? Non va su! Non va su la mia moto, non ha trazione! Ma dai! Ma mi prende in giro! Dai! Non va su! E poi muore! E poi muore! A caso! A caso! Dai, dai, dai! Veloce, veloce! E non ce la fa! Non ce la fa! Vai, salta! Ola! Finalmente! Checkpoint! E muore! Oggi è impossibile non morire in sta gara, ho capito! Uuuuh! Dai, non morire, non morire! Ha appena detto! Vai! Lanciati di sotto! Muore! Dai, con sto checkpoint! Vediamo di finire questa gara malefica! Oh, là! In mezzo! Uuuuh! Quella era un infradito! Sulla neve! Dai, dai! Andiamo, andiamo! Impennata! Giriamo per la città tutta innevata! Cioè, favoloso! Forse mi starò ripetendo, ragazzi, ma a me piace tantissimo la neve vedere poi GTA sotto la neve, veramente! È il massimo che si possa chiedere! Qualche mega salto ho fatto! No! Ma dai, avevo frenato! Bisogna stare veramente molto, molto attenti adesso anche alle distanze che si faranno soprattutto quando si frena e via dicendo perché qua veramente freni e la moto va avanti 800 km ed eccoci qui con la seconda gara in bici ragazzi, in BMX vi faccio vedere solamente gli sfidanti abbiamo un pinguino un cavolo di pupazzo di neve due biscotti cioè veramente una cosa delirio l'unica persona normale è quello laggiù che è messo in disparte pensate un po' e siamo pronti a dare sfogo a questa gara epica pronti? iniziamo già bene là da che parte devo andare? A destra? Uuuuh! Vara che citta! Bistard citta natale! Anche lui ha cittato! Dove devo andare? Ah, sotto qua! Uuuuh! Bistard ha imparato a cittare! Vai andiamo! Spettacolo in mezzo alla neve! Per fortuna che non ci sono le collisioni Per fortuna che non ci sono Osti! Nooo! Mi ammazzo Dai Bistard! Dai Bistard! Avanti! La neve è il tuo elemento Non puoi perdere quando c'è la neve Avanti! Oh! E' fighissima questa gara anche sui tetti Ma che cavolo è? Container! C'è di tutto! Vai Babbo Natale! Fatti attaccare a delle renne! Metti delle renne! Dovrebbero mettere la motoslitta! Sarebbe epica la motoslitta! Il veicolo più azzeccato E non lo mettono Oppure un quad cingolato Cioè Sarebbe una cosa fantastica Ah qua si è aperta Non so sinceramente quanti giri ci siano Nooo! Maledetta acqua! Vai riproviamoci Mi hanno superato tutti Cavolo! Attenzione! 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 No! Fermati! Uh! In bilico! Terrore negli occhi di Bistard Sicuro? Uh! Questo non sapevo neanche che dovevo andare fino là Secondo? Secondo! Avanti! In strada! Lasciate veramente miliardi di like per queste gare malate innevate Sono veramente fantastiche A me piacciono tantissimo E quindi in questo episodio ve ne avrò messe due Non lo so neanche ragazzi Due o tre magari ve ne metto Adesso vediamo un po' Avanti! Avanti! Il primo ha già concluso Derrapata Derrapata ragazzi Di qua In mezzo ai vicoli In mezzo ai vicoli Avanti! Saltiamo di qua Mi sta esplodendo veramente il pollice Vai avanti Per fortuna che sono con il primo personaggio Che ha la vita infinita Noi passiamo così dentro Non morire eh Mamma mia Avevo in mente Cioè pensavo che mi morisse di faccia Cioè guardate che bello Che è fuori Cioè ma siamo matti? È fighissima la neve In mezzo alla vegetazione Ole! Vai! Due minuti! Avanti! Pedala ragazzi Ditemi anche voi cosa volete vedere Con la neve Ditemi sotto nei commenti Tutto quanto E io vi farò vedere Esattamente Quello che voi Mi scriverete sotto nei commenti Perché veramente Dovete darmi anche voi Delle idee Malsane Veramente Perché già le mie idee Non sono Abbastanza Malate Quindi Con il vostro Zampino di mezzo Sicuramente Verranno fuori Dei video Favolosi Comunque ragazzi Io direi che Sì per questo video Direi di finirlo qua Vi invito a lasciare appunto Tantissimi like Commentate Iscrivetevi Alla pagina facebook Che trovate sotto in descrizione Al mio canale Veramente ragazzi Io vi ringrazio Quindi qua da Bistard è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Grazie per la visione